Per il suicidio politico di Letta temo di sì, nel senso si è suicidato da solo, per competere bisogna fare come un olivo nel quale eravamo un po' tutti assieme appassionatamente, anche se con difficoltà di realizzazione di impianti, anche programmatici, ma facevamo un unico programma. Qua invece programmi distonici, un labirinto di regole e regolette per fottere tutti quelli che si avventurano la prima volta sul piano di partecipazione al voto e come dire, sì già è tutto stabilito perché il fatto che ci sia questo tipo di meccaniche elettorali in cui tutti i grandi partiti mettono al primo posto i loro leaders, è ovvio che quelli già sono eletti, gli altri invece contenderanno il territorio con grandi e enormi difficoltà e quindi è una parvenza di democrazia quella che stiamo vivendo in questo periodo, molto molto piccola democrazia, discutessero tutti nelle varie scuole provveditorate il sabato libero a scuola, io domani farò una riunione anche a Benevento, secondo me dovrebbe essere applicata in tutta Italia, peraltro io fui l'autore a tanti anni fa come primo firmatario che saprò se legge il sabato libero a scuola, oggi esistono tutte le condizioni, perché è ovvio che un giorno in più con la crisi energetica appesantisce nelle città, nelle cittadine, nei paesi, nei borghi, il problema di quello che sarà l'asfissia del gas che mancherà. Il sindaco, come giudica la foto al meeting di Rimini con tutti i leader nazionali sediti alla stessa tavola? A parte il fatto devo dire che se uno fa una cosa seria invita tutti, anche quelli come me magari, io sono stato invitato quando ero ministro, oggi invece no, non me ne frega nulla di poter dire la verità, quindi non è che mi interessa partecipare al meeting, sono stato tante altre volte, però se fai una democrazia seria e vera devi invitare tutti, oppure magari il primo giorno inviti quelli che hanno maggiore capacità di ascolto elettorale e poi gli altri giorni inviti anche quelli più modesti, però questa è la democrazia. Se ci sono condizioni quelle che sarissino a fare, come ha detto anche la Gcom, non è possibile uno contro uno, quattro, questo non è assolutamente possibile, invece non è possibile, mi senterò lei e farò lo sciopero alla fame. Un'idea pannelliana che ha avuto successo in alcune circostanze, voglio ricordare a voi che siete più giovani, beati voi, che io ho fatto il mio sciopero alla fame qua a Napoli, già l'ho fatto io lo sciopero alla fame, anche se il potifica il secondo giorno, già ero in crisi con me stesso, però ho fatto lo sciopero alla fame nel 2002, vedete, nel 2002 io ho fatto, no no, non ho fatto lo sciopero alla fame, in sorso ragione di vesti, in termini anche Ciampi che mi ha detto una mano e quindi si superarono le difficoltà che mi portavano a fare lo sciopero alla fame.